... Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi, sabato 4 gennaio 2020. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV. Su un canale 17 c'è l'informazione con la rassegna stampa, occhio ai giornali. La rassegna stampa che come di consueto comincia con uno sguardo al calendario del giorno, in cui possiamo leggere oggi, sabato 4 gennaio, non siamo al 5, siamo 4 gennaio, dunque il 4 gennaio si festeggia Sant'Angela da Foligno. Il sole sorgerà alle 7 e 44, tramuterà alle 16 e 44 minuti. Non abbiamo molto da dirvi sul tempo. Oggi la protezione civile delle Marche prevede un cielo nuvoloso con temperature massime stazionarie. Ancora nel cuore della giornata potremmo comunque stare bene con temperature gradevoli, per essere insomma il 4 di gennaio, ma insomma ci saranno rinforzi per quanto riguarda invece i venti, vento teso soprattutto lungo la costa. Per domani, domenica 5 gennaio, abbiamo un cielo poco nuvoloso, o irregolarmente nuvoloso, con possibilità di brevi e occasionali piovaschi nel settore meridionale. Saranno nevosi sopra i 500 metri, ma come vedete dalla grafica, ci stiamo parlando dei monti, insomma dei Sibillini a parte sud della nostra regione. Per quanto riguarda invece lunedì 6, lunedì è giorno di festa, l'epifania, ebbene questa giornata si presenterà serena o poco nuvolosa, con temperature in diminuzione. La tendenza, secondo le previsioni meteorologiche della regione, avremo l'alta pressione, di cui si parla soprattutto nei siti specializzati, un'alta pressione che determinerà condizioni di tempo stabile, con cielo prevalentemente sereno per i prossimi giorni, favorendo le inversioni termiche notturne e le gelate. E adesso i giornali con il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, come sempre troverete il vostro edicolante di fiducia, che abbiamo nel nostro touchscreen e che adesso inizieremo a sfogliare. Abbiamo fatto come sempre una selezione delle notizie più importanti, a nostro giudizio. Cominciamo dall'edizione di peso del Corriere Adriatico, che apre con l'ex Bramante. Entro fine aprile 70 dipendenti dovranno andarsene dagli attuali uffici, tra Largo Aldomoro e Via Donminzoni, ma il Comune adesso prova a guadagnare tempo per il palazzo sottosfratto. E lavoriamo, dicono dagli uffici, dal Comune per una proroga. A centropagine invece Fano, capitale della cultura, si candida insieme ad altre 40 città, insomma sfida 42 città, e dentro il 2 marzo i dossier per la candidatura 2021, un milione di euro al progetto che vincerà. In corsa c'è anche la città di Ancona, mentre Ascoli Piceno si è ritirata. La cronaca viene travolto dal treno, un giovane gravissimo, un ventenne che si è lanciato davanti ai passeggeri, il dramma ieri sera alla stazione di Pesaro, un dramma che trova spazio sulla prima pagina del Carlino, un giovane di 20 anni incastrato tra i binari, miracolato sotto il treno. Questo è il titolo della fotonotizia, mentre in apertura i lupi che arrivano alle porte di Santa Veneranda aumentano gli avvistamenti vicino ai centri abitati, la città si divide tra chi si allarma e tra chi minimizza. Burioni, la buona medicina, celebrato da Science, la science decisiva, la battaglia sui Novax, mentre a Gradara, botto in esploso sul ponte dell'A14, serve addirittura l'artificiere. Mentre sempre in prima pagina lo sport con il basket, Williams resta ai box per una ginocchiata, la VL è in ansia per lui, il calcio invece la vis preso Marcheggiani sul fronte del Fano, invece Burzigotti arriva soltanto lunedì. Ma c'è anche la politica che in questi primi giorni dell'anno sta in febbrillazione, complice anche il fatto che andremo a votare, i marchigiani sono chiamati a votare nei prossimi mesi per il nuovo governatore, ma c'è anche spazio per la politica strettamente fanese, con il sindaco Massimo Seri, che ieri, come anticipato dal resto del Carlino, una notizia tra l'altro neanche smentita dallo stesso Massimo Seri, dava per Massimo Seri verso Italia Viva di Matteo Renzi. Il sindaco con Renzi e la giunta traballa, il PD è chiaramente, anche in vista delle regionali, in fibrillazione, perché nel PD c'è, ricordiamolo, Minardi e Minardi sta dando una mano, come giusto che sia, anche alla città di Fano. Insomma, ci sono delle situazioni dei sassolini, evidentemente, da togliersi, mentre sempre verso le regionali, Maggi dei Cinque Stelle addirittura, questo titolo è abbastanza forte, ma insomma vedremo poi gli strasci che abbiamo, il PD in pugno. Mentre Ancona apre con l'asse nella quale ieri c'è stato, ieri mattina intorno alle 7, 7.20, c'è stato un incidente incidente che poteva andare decisamente peggio, ma comunque una lastra di ghiaccio, quest'asse che porta verso il centro, che ha provocato un maxitamponamento con quattro persone ferite, una in gravissime condizioni, un 59enne che a un certo punto è sceso dall'auto per mettere il triangolo, perché a causa del ghiaccio era uscito fuori strada ed è andata a sbattere contro il guardrail, ma è stato investito da un'altra auto, appunto questa persona è finita al torrette di Ancona e poi da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di frenate, sbandamenti e colpi. Una tragedia sfiorata, dicevamo, il comandante e l'assessore del comune di Ancona dicono che non c'era l'allerta meteo, quindi non era previsto tutto questo abbassamento delle temperature e questo ghiaccio. Mentre sul ghiaccio c'è anche chi si diverte, come a Macerata, ma è andata male, nel senso che la pista che è stata montata e già subito smontata, prima addirittura del 6 gennaio, è una pista che non ha entusiasmato, una pista del ghiaccio che non ha portato quell'allegria che di solito porta nelle piazze in cui vengono installate. È stata subito smontata, il bilancio è negativo in centro, una tale da dimenticare, scrive il resto del Carlino di Macerata. Titolo invece d'apertura per la cronaca, preso in ostaggio, poi la rapina, a Pievetorini il racconto di un bancario che è stato bloccato sotto casa, lui dice mi hanno fatto aprire la filiale, sono spariti 30 mila euro. Entriamo nelle pagine locali del Corriere Adriatico, la notizia di cui vi parlavo all'inizio della rassegna, questa notizia che tra l'altro abbiamo battuto ieri sera intorno alle 23 anche noi sul nostro sito, travolto da un treno alla stazione, un ventenne in gravissime condizioni. Nella serata di ieri il ragazzo si è lanciato contro il convoglio che stava arrivando sul binario 2. È successo intorno alle 20 e 30 il ragazzo che è un 21enne di Udine, a un certo punto quando ha visto i fari da lontano si è messo in mezzo al binario. Chiaramente il macchinista non ha potuto far nulla, il ragazzo però si è salvato nel senso che è grave, ma è finito in mezzo ai binari e dunque il treno gli è passato sopra e non l'ha ucciso. Ora è ricoverato al San Salvatore, stanno valutando, perlomeno ieri sera stavano valutando se trasferirlo alla Torrette oppure no. Il traffico, è inutile dirlo, è stato interrotto, il traffico ferroviario ha subito ritardi in entrambe le direzioni. Mentre una nonnina sola chiama il 113, la polizia va a farle compagnia, l'altra notizia sul Corriere, ma vedremo anche sul Carlino, la novantenne cercava aiuto, non riusciva a capire il contenuto di una lettera. Ed eccola qui, l'altra pagina nella quale si parla di questo gesto volontario di questo ventenne, ventunenne di Udine alla stazione davanti a decine di persone, ieri alle 20 e 30, resta prigioniero tra i binari, straordinario intervento dei vigili del fuoco del 118. Un testimone racconta, dice, ha acceso una sigaretta, poi si è incamminato lungo il binario lanciandosi all'arrivo del regionale. Un ragazzo si chiama Alessio ed è di Udine, aveva una valigia in mano e una borsa nell'altra. Pare che dentro questo trolley, dentro questa borsa, ci fosse anche una lettera di addio. Boato nella notte, invece siamo a Senigallia, esplode il Postamat, tre banditi fuggono con 40 mila euro, il colpo in via Primo Maggio a Ponterio, erano a bordo di un'auto grigia di grossa cilindrata. Siamo nel comune di Trecastelli, l'assalto è venuto alle 3.40 ed è durato pochissimi minuti, almeno tre banditi dopo aver oscurato le telecamere, hanno inserito nella fessura dello sportello automatico un parallelepipedo contenente polvere esplosive, la cosiddetta marmotta. Una volta esploso hanno preso il denaro e si sono dati alla fuga. L'ufficio postale si trova in via Primo Maggio, una zona residenziale, mentre una furibonda litigata davanti alla polizia, è stato ferito un giovane, il folle di Verbio, è scoppiato nel parterre della Rocca, all'ospedale un 28enne di Iesi, adesso si indaga sulle cause. E' una lite che è venuto, come dicevamo, davanti alla Rocca di Senigallia, un 28enne di Iesi è rimasto ferito dopo aver ricevuto un pugno al naso da un 35enne residente invece in città. Questo fatto è avvenuto giovedì pomeriggio, gli agenti del commissariato poi ovviamente hanno tentato di risalire e di ricostruire soprattutto alle motivazioni. Senigallia, qui siamo sul Carlino invece, tecnica della marmotta fa saltare un banco, vatti il colpo nella notte a Ponterio di Trecastelli, tre malviventi in azione portano via un bottino superiore ai 40 mila euro. Anche qui si racconta di questa lite alla rotonda davanti ai poliziotti, un pugno in viso e poi l'intervista al comandante della polizia locale di Senigallia, Flavio Brunacconi, che dice è stato un anno per noi molto intenso, ci sono stati anche molti incidenti, troppa gente disattenta alla guida per il cellulare. Apriamo invece la pagina adesso di Fano del resto del Carlino, si parla dell'Ocean, il supermercato che si svuota aspettando il cambio di mano, ovvero il passaggio a Conad. Il supermercato resterà chiuso dal 25 gennaio fino all'8 febbraio per il passaggio appunto a Conad. Il nuovo titolare è l'Urbinate Massimo Marchionni. Dunque gli scaffali sono già mezzi vuoti in vista di questo imminente passaggio. Il 25 gennaio chiuderà l'ora di pranzo per riaprire la mattina dell'8 febbraio questo supermercato che si trova all'interno del centro commerciale di Bellocchi. Per questo il magazzino in questo periodo sta cercando di smaltire la merce senza fare riassortimento, soprattutto quella marchiata con l'uccellino campestre che è il simbolo appunto della multinazionale francese che come sapete è fallita. Gli scaffali di ogni settore mostrano praticamente la carenza di prodotti, ma insomma questo è. Bisognerà poi attendere che ci sia questo passaggio. Ma la cosa importante è che i dipendenti, che sono 131, sono stati rassicurati, manterranno il posto e i sindacati comunque restano scettici. Bisognerà insomma vedere poi nei fatti se sarà così. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico apre su un sondaggio, un sondaggio delle imprese per testare la promozione, la promozione della città di Fano. L'assessore Lucarelli ricorre agli studi di Emoscopici per misurare i risultati. È in atto in questi giorni da parte dell'assessorato al turismo un duplice sondaggio tra le categorie economiche della città per rilevare quanto le iniziative natalizie hanno contribuito a sostenere e a promuovere l'attività aziendale. Per quanto riguarda il commercio sono state coinvolte 50 aziende tra ristoranti e negozi di tutti i settori merceologici. Per quanto riguarda invece il settore ricettivo sono stati contattati non solo tutti gli hotel aperti durante il periodo invernale, ma anche i bed and breakfast, le case per ferie, le dimore storiche, gli appartamenti turistici e quant'altro. Poi sotto invece si parla dei saldi. Oggi cominciano i saldi in tutta la regione Marche, ma forse o per qualcuno come Marco Arzeni, che è di Commercio e quindi se ne intende a titolo, per dire la sua, certamente in fatto di commercio, per qualcuno è un po' troppo presto, bisognerebbe farli magari un po' più avanti a febbraio. Da oggi le vendite agevolate, Arzeni chiede interventi al Comune. Da oggi le vetrine dei negozi cittadini a Fano saranno tappezzate di percentuali a carattere cubitali che evidenziano la montare dei saldi. Un fenomeno questo che bene o male produrrà lo sviluppo delle vendite, bene perché anche nel periodo di natalizio gli acquisti non sono stati molto contenuti, male perché l'inizio dei saldi è stato programmato troppo presto con le scorte dei negozi ancora praticamente integre. E di questo parla appunto Arzeni del Confcommercio. Fano Capitale Italiana della Cultura la candidatura contro altre 42 città per il 2021 anno dantesco, i dossier entro il 2 marzo, scremati 10 progetti, al vincitore andranno niente meno che un milione di euro. E dunque sarà l'anno dantesco per i 500 anni dalla morte dell'autore della Divina Commedia, quindi la memoria di Acopo del Cassero, fanese di nobile famiglia citato da Dante Alighieri nel quinto canto del Purgatorio per un appello alla sua città e alla misericordia di amici e parenti, accompagna gli auspici per la candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2021. Ascoli invece si è ritirata mentre resta in corsa tra le 42 città Ancona e il riconoscimento istituito per la prima volta nel 2015 dal Ministro Franceschini. Due ore di botti hanno terrorizzato gli animali senza le sanzioni, senza le multe, di vieti sono fumano negli occhi e la denuncia dei volontari di Melampo di Fano e degli ecologisti per quello che succede tutti gli anni a Capodanno. L'Asur è in campo per ritrovare i cani fuggiti, le esplosioni più intense degli ultimi anni, gravi danni alla fauna selvatica, nessuna multa è stata elevata. Contributi a pioggia invece di fine anno per l'aggiunta una gratificazione alle associazioni, ulteriore atto per sodalizi sociali, culturali e sportivi aiutata anche l'Africa Chiama. Il Comune di Fano ha donato 4.000 euro a questa associazione che opera in Zambia in particolare per la costruzione di un punto nascita che appunto in Zambia è un'opera molto bella. Il Fiume Metauro come discarica argonauta contro l'inciviltà di chi lascia rifiuti e l'incuria di chi non chiude le sbarre. Lupi alle porte della città, Santa Veneranda, qui c'è una fotografia, vedete questa, a parte questa fotografia bellissima di questo lupo che campeggia al centro, ma qui ecco in questa ha segnato già con un trattino, un tratto penne, insomma è segnato il punto esatto in cui si è stato avvistato questo lupo e insomma ha documentato con questa fotografia due lupi vicino a Santa Vene, vicino alla strada Val Gelata che conduce a Candelare e questi due esemplari stavano camminando nel campo dei pressi di una casa. Però attenzione perché a volte parliamo di lupi ma qualcuno dà l'allarme ma in realtà potrebbero essere anche dei cani, cani che assomigliano a lupi. Così come dice Massimo Pandolfi è uno zoologo però lui dice non esiste secondo lui un problema lupo in città per due ragioni e le potrete leggere sul giornale nell'intervista di questa mattina pubblicata sul Carlino mentre a Caccia Scarpetti che è una guardia di Venatoria dice troppi casi ma la regione non fa niente. Scarpetti è presidente dell'Associazione Culturali Amici del San Bartolo e da una parte a Santa Veneranda il problema dei lupi un po' più in giù nelle Marche a Fabriano i cinghiali ma è un problema che non riguarda solo Fabriano ovviamente è un problema che riguarda tutta la regione ormai è una vera invasione il sindaco chiede di facilitare la caccia Santarelli si rivolge alla regione e chiede di creare una fascia di rispetto di 500 metri dove abbattere e allontanare questi ungulati è un problema in un anno sono stati soppressi 1407 esemplari ieri c'è stato un avvistamento lungo via Dante siamo sempre nella zona del Fabrianese mentre passiamo dai lupi ai cinghiali ma c'è un problema anche dei cani un problema dei cani soprattutto quando si parla di cani che fanno i loro bisognini per strada e i proprietari di questi cani non li raccolgono oppure si parla anche di quei cani che magari lasciati senza guinzaglio vanno in giro e a morsicare le persone ebbene l'articolo del resto del canino di questa mattina si occupa di bisogni e di morsi dei cani per i quali i proprietari hanno dovuto pagare multe multe di 100 euro si racconta di passanti aggrediti da cani senza guinzaglio di abbandono di animali di viali e spiagge sporchi di escrementi giro di vite della polizia locale polizia locale che ricordo ha già l'anno scorso elevato 93 per esattezza 93 verbali tutte sanzionate tutti verbali con multe di 100 euro la maggior parte per mancanza di guinzaglio e per deiezioni non raccolte e a proposito di deiezioni voglio soffermarmi su quello che aveva detto il sindaco Matteo Ricci sindaco di Pesaro un anno fa e che riporta Eusebi questa mattina sul giornale il sindaco Ricci un anno fa aveva annunciato l'eventualità di sottoporre ad obbligo di DNA i cani di Pesaro per poter risalire attraverso l'esame delle deiezioni non raccolte ai proprietari e poi multarli come avviene tra l'altro in altre città per migliaia di euro un provvedimento che ove adottato ha risolto il problema drasticamente ora questo era stato un annuncio ma che non ha trovato poi nei fatti nessun riscontro perché questo questo DNA non è stato preso nessun cane pesarese però potrebbe essere una una idea sempre sulla pagina di Pesaro c'è anche la notizia che riguarda la morte di è avvenuta nella notte di Capodanno di Paolo Piccoli a soli 43 anni è stato un infarto ad averlo ucciso mentre era seduto sul divano di casa lo ha stabilito la ricognizione cadaverica un'ispezione che è avvenuta in quella sala mortuare dove lo ha visto entrare senza vita la sorella Donatella che tra l'altro è dipendente del San Salvatore sapete insomma un Paolo Piccoli grande tifoso di di basket della WL Vallefoglia stop alla mania imperialista di Ricci la fusione giova solo a lui e a Pesaro siamo a Montecicardo dove Doglioni che vedete nella fotografia nella Lega lancia il comitato del no quindi no alla fusione con il comune di Pesaro il debito si risana la comunità invece non torna più da Monbaroccio recupero tari e sprechi tagliati ora si investe su cultura e sociale dice il sindaco Emanuele Petrucci anticipa le strategie e i progetti del 2020 ecco qua la notizia e l'intervista a Maggi dei 5 Stelle il PD fa fuori Ceriscioli e ci concede tutto Maggi capogruppo regionale dei 5 Stelle dice tanti contatti tre o quattro unioni con Gostoli abbiamo il coltello dalla parte del manico molti attivisti mi hanno chiamato non sapevano nulla conta solo Russo ovvero la piattaforma Sauro Longhi va bene per quanto riguarda il candidato la Mancinelli invece non ci piace dice Maggi non vogliamo praticamente uno di loro seri con Italia Viva il PD va in fibrillazione l'indiscrezione del passaggio del primo cittadino di Fano al partito di Matteo Renzi scuote la politica fanese ecco chi potrebbe seguirlo e dunque l'avvicendiamento del sindaco a Italia Viva tra l'altro come dicevamo un'indiscrezione non smentita dal primo cittadino scuote la politica fanese soprattutto coglie di sorpresa il partito democratico e mette a rischio la stessa giunta parla di allarme lo stesso Bacchiocchi il segretario cittadino del PD soprattutto per quanto riguarda le elezioni regionali finora era scontato l'appoggio del primo cittadino per il nostro candidato Renato Claudio Minardi ma passando ad Italia Viva cambierà qualcosa si domanda Bacchiocchi visto il loro consigliere regionale di riferimento è Federico Talè i due si sosterranno reciprocamente alle regionali e alle politiche punto sempre di domanda credo che Seri non possa negare al partito democratico e a Minardi il suo appoggio nell'interesse della città in considerazione del lavoro svolto in questi anni per Fano e poi Bacchiocchi snocciola tutti i vari numeri e anche le occasioni in cui appunto la regione per mano di Minardi ha aiutato la città di Fano guidata appunto da Seri che però starebbe pensando di andare da tutt'altra parte e questa dicevo è la pagina di Fano che si occupa di politica dove c'è anche spazio per la Lega Lega all'attacco la Giunta fa solo spot elettorali critiche per la conferenza stampa di fine anno tralasciati temi come centro storico e lavoro andiamo a Urbino ospedale senza tecnici al centro trasfusioni Gambini e Foschi inviano una lettera al Presidente della Regione Luca Ceriscioli carente anche il numero dei medici mentre sull'altra pagina del Corriere sempre da questa volta da Senigallia ciclovia adriatica apre il cartiere lungomare da Vinci a senso unico da martedì per 120 giorni cambia la viabilità per consentire di realizzare l'attesa infrastruttura Italia Viva ha scelto sempre a Senigallia campanile e la volontà di cambiamento i comitati provinciali dei Renziani si schierano con l'ex assessore dalla sua anche i Verdi e la lista Volt Valmetauro Flaminia sempre più degradata lettera di protesta dei cittadini siamo a Fossombrone descritto tratto per tratto il cattivo stato della strada dallo svincolo a Piazza Dante Valcesano Mondolfo pugno duro contro gli evasori agli esercenti licenza ritirata la sanzione massima dopo 45 giorni il vice sindaco Carlo Di Ottallevi dice questione di equità sociale e poi da Urbino ancora Raffaello siamo già in ritardo di anni qui va celebrata un'esperienza unica Londè chiede un'accelerata di stile e audacia aspettando le iniziative per i 500 anni della dipartita del pittore questa era l'ultima notizia della nostra segna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata vi ricordo questo numero per le vostre segnalazioni e vi ricordo anche che domani vabbè è domenica giornata di festa ma poi c'è anche il lunedì attaccato che è l'ultimo giorno di questa delle feste natalizie l'epifania non andremo in onda ma comunque manterremo aggiornato come sempre il sito e seguiremo gli eventi legati alla giornata dell'epifania grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti